Un altro episodio a sfavore, un'altra pecca che seppur frutto delle circostanze ha infierito sul risultato finale. Si è conclusa sul 2-2 la sfida infrasettimanale di campionato tra Breno e Folgore Karatese. I granata di scena tra le muramiche per la quarta giornata del campionato di Serie D già orfani degli squalificati Indiure Cicciu vanno sotto già al tredicesimo a causa di un'amnesia difensiva sfruttata alla perfezione dalla cavalcata vincente di Kuda. I camoni non si abbattono e al venticinquesimo trovano il pareggio grazie a Brancato lesso risolvere una mischia in area ospite. Brino scatenato tanto che 12 minuti più tardi giunge anche il vantaggio grazie al rigore procurato da Tanghetti Melchiori con freddezza indovina l'angolino e fa 2-1. Peccato che neanche due giri di lancette dopo un tocco di braccio in piena area seppur apparentemente involontario da parte di Perez spinge il direttore di gara alla scelta più drastica, massima punizione in favore della Caratese e cartellino rosso sventolato al giammonito Perez. Alma non sbaglia e dal dischetto fissa il punteggio sul 2-2. I granatari esistono per tutto l'arco della ripresa ma in inferiorità numerica si devono accontentare del punto finale. Sugli altri campi prosegue invece la striscia vincente del Desenzano Calvina vittorioso di misura per 1-0 sul Real Calepina grazie al sigillo di Marangon mentre il Franciacorta non va oltre l'1-1 sul terreno del Brusaporto.